Siamo con il presidente del Lions Club, Alessandria Marengo, Giorgio Melchioni, alla consegna delle borse di studio. Quanto sono importanti iniziative di questo tipo e qual è il valore dei service per il vostro club? Grazie per questa domanda, ma è l'essenza classica del Lions, il service, quella di poter intervenire in aiuto, in soccorso, non a livello di beneficenza, quello che si intende per beneficenza, ma proprio andando a individuare i punti di necessità. Oggi abbiamo consegnato due borse di studio volute da Carlo Convertino, in memoria dei suoi genitori. Carlo Convertino è un operatore del settore dell'insegnamento della lingua inglese a livello nazionale e ci ha messo a disposizione queste borse di studio personalizzate, cioè noi riusciamo a intervenire, aiutare dei ragazzi della vecchia scuola media e delle vecchie scuole superiori, che adesso hanno nomi diversi, per preparare al meglio il loro futuro. Sono studenti particolarmente meritevoli, quindi non è una cosa data, come dicevo prima, di beneficenza. No, ci cerca di aiutati che il cento aiuta, premiare il merito. Sono due ragazzi, uno la media del 9 e l'altro la media del 100, quindi più di così onestamente non si poteva fare. Sono due ragazzi che avranno bisogno di questi corsi, perché oggi la lingua inglese è fondamentale, per il lavoro, per lo studio. Quindi siamo felicissimi di essere riusciti a intervenire in questo settore molto importante nella vita di ragazzi. I servizi per il live sono l'essenza, sono la vita. Se al live si toglie il servizi, si è tolto il live, perché i servizi sono lo scopo istituzionale del live. Quello di dire, cerchiamo di intervenire per aiutare la cittadinanza, le popolazioni, l'enclave di necessità. Noi interveniamo in questo modo e interveniamo non solamente per conto nostro, ma appoggiandoci anche alle strutture e alla comunità. Oggi per esempio abbiamo dato le borse di studio, ma le ha consegnate il sindaco di Alessandri, che è quindi un riconoscimento da parte dell'ente pubblico a una struttura privata come è l'Ion di un certo valore e una certa importanza di un service. Questo è il nostro scopo. Noi per esempio abbiamo fatto lunedì uno screening sull'ambliopia, che è una malattia infida, e abbiamo trattato 71 bambini, e ne abbiamo trovati 15 affetti da malattia che non sapevano di averla. lunedì faremo le scuole in Alessandria e andremo avanti così. Cioè questo è il nostro servizio, è il nostro servizio.